Oggi è il 18 giugno, mi trovo tra Corso Roma e Piazza Garibaldi in attesa del pullman dei grigi per l'acclamazione e per il saluto da parte dei tifosi. Eccolo là in fondo, ecco è un pullman scoperto. Eccolo là in fondo, ecco è un pullman scoperto, ecco è un pullman scoperto, ecco è un pullman scoperto. Il successo meritato. Grazie ragazzi! Una folla entusiasta saluta i ragazzi che hanno portato a casa la promozione. E' un ballo che ha portato a casa la promozione. E' un ballo che ha portato a casa la promozione. Semi, 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 Semi. Semi, 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 Semi. Semi, Semi, Semi. Semi, 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 Semi. Semi, Semi, Semi. Semi, Semi. Semi, 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 Semi. Semi, Semi, Semi. Semi.